ciao a tutti chat dal vivo buonasera per chi mi vede buonasera buonasera aspettiamo un pochino che si formi un gruppetto questa sera questa sera di giugno comincia a fare caldo qui a roma adesso voglio un attimo vedere quanti gradi fanno 18 ma 21 21 però da pioggia buonasera buonasera come state come stai anna mi sono messa il rossetto tutto tre tutto sbagliato ciao alessandra buonasera ragazzi questa sera un argomento che a me piace tanto ciao fabiana la prima chiave della serata buonasera stasera parliamo ecco tutti insieme aiuto aspetta tatiana iaia roberta anna rita stellina buonasera stefania ma quale gran forma anna grazie grazie amore noi ci vogliamo troppo bene ciao tania bella stasera parliamo della relazione tossica tra ego e anima la settima puntata di narcisismo e spiritualità ciao rosa ciao si rosa rosi ciao lisa perché ho letto rosi e ho letto lisa e ho fatto rosa cioè ho fatto un mix allora cominciamo accendere candeline così nel frattempo che arrivano gli altri io sto sudà già manco iniziato allora che possano tante belle cose entrare nella nostra esistenza oh che bello il fuoco la candela quanto mi piace quanto mi piace il fuoco ecco qua che purifica che che brucia che ciao e ma ciao dagli è tutta sì ciao anna quindi tante belle cose che possano entrare nella nostra esistenza ciao scheggia piccola ciao meri poi continuiamo che tutta questa è ormai ha assunto tipo uno è una scultura un'opera d'arte che tutte le nostre sofferenze possano bruciare buonasera chi era buonasera stefano possano bruciare tutte quante questa sera poi quando spegniamo che spero che possiamo sentire una bella liberazione ciao vero falso ammazza ma quanto da quanto tempo che non ci vediamo ciao robbie allora ultima ma non per importanza la candelina verde speranza che possa accompagnare la madonna tutti i manipolatori lontano dalla nostra strada ciao robbie ciao paperata questo argomento mi interessa meno male meri sono contenta quindi che la madonna li accompagni fuori dalla nostra vita come diceva mi nonna ecco qua allora 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 sì pur a me mi pur a me mi non si dice anche a me interessa molto l'argomento ego e anima nella relazione tossica ciao claudia grazie ciao marty allora adesso mi concentro poi dopo ci salutiamo vi leggo eccetera silvia che piacere ormai siamo una grande famiglia quindi io c'è mi viene da salutarvi tutti vi conosco ormai capito ecco anna maria aria di cambiamenti ciao claudia vero falso sono un narcisista sono tornato ecco appunto ciao rosanna allora sostanzialmente che cosa succede che è chiaro che la relazione tossica vissuta da narcisista chi se ne frega tanto voglio di buonasera aurelia buonasera alessandra buonasera a tutti basta giulia basta dopo vi saluto non vi prendete a male se non vi saluto allora noi dobbiamo pensare noi come noi noi viviamo la relazione tossica tra ego e anima perché sono convinta che anche se mi sono pentita perché ho detto in che ginepraio me so buttata che pare facile però è un argomento complicato come ben sapete io cerco sempre di no renderlo fruibile e ma perché io l'ho elaborato in maniera fruibile nel senso ho cercato di cerco sempre di comunicarvi quello che ho vissuto ok quindi c'è no il diciamo il filtro mio ecco iniziamo col dire che quindi vedremo dal punto di vista nostro quanto effettivamente la relazione tossica sia una relazione di ego anche per noi molto più di quanto molto più di quanto noi potessimo pensare ok allora cominciamo con il dire questo buonasera morena e mi ciao daniela cominciamo col dire che i due grandi motori del mondo sono l'amore e la paura ok e questo lo sappiamo insomma sono due forze opposte e complementari sono le due i due motori del mondo quindi sotto al creatore l'universo si muove per gli esseri umani con la paura e con l'amore la paura chiaramente corrisponde alla parte dell'ego l'amore invece corrisponde alla parte dell'anima ok quindi dentro di noi chiaramente ci sono sia una parte di ego che una parte che una parte di anima ma tanto questo ne parliamo dopo intanto vi voglio far capire questo perché per la preda del narcisista quindi perché per noi quando eravamo nella relazione tossica eravamo in una relazione di ego perché avevamo paura di che ci avevamo paura ci avevamo paura di una grande cosa che di cui ha paura l'ego e non l'anima e adesso vediamo la paura di non esistere la grande paura della preda del narcisista che si porta dietro dalla famiglia il più delle volte e non sempre perché abbiamo detto che esistono 2000 sfumature senza che lo ripeto tutte le volte ci siamo capiti quindi il più delle volte la preda ideale del narcisista è una persona che ha paura brava Alessandra anche di non essere riconosciuto di non essere validato se tu non vieni riconosciuto e non vieni validato in fondo non esisti giusto ecco perché non sei stata amata perché non sei stata riconosciuta perché non sei stata nessuno te l'ha insegnato e quindi no mai come nella relazione tossica mai come con il o la narcisista perché abbiamo detto che è sempre aperto ad entrambi ad entrambi i sessi mai con lui o lei noi ci siamo sentiti all'inizio finalmente riconosciuti e visti e validati e poi entrando nella fase di svalutazione e quindi all'inferno passibili di sostituzione stupidi sbagliati che non ne azzeccavamo una che eravamo bigotti che non avevamo una visione aperta delle cose vabbè insomma lo sapete no ecco quindi diciamo che la paura più grande il motore più grande nella per l'ego della vittima del narcisista della preda del narcisista è assolutamente la paura di essere sostituita è il filo conduttore della relazione quando sei amato e riconosciuto quando ti senti amato e riconosciuto dall'universo ok e da te stesso dopo aver smaltito la botta dell'arcisista non te ne frega più niente non te ne frega più niente di essere amato e validato e riconosciuto fuori di te e lì hai incontrato l'anima quindi cominciate a capire la differenza questa introduzione no allora nel momento in cui tu ti senti amato ciao stefi amato riconosciuto dall'universo e quindi da te stesso facente parte dell'universo facente parte no della mente universale eccola lì che non vai a ricercare più l'ego non ha più bisogno di andare a ricercare validazione esterna e quindi anima ha compiuto diciamo un passo evolutivo quindi quindi anima che cos'è è la scintilla divina è la scintilla divina dentro di noi che ci collega all'universo che ci collega all'uno noi siamo tante gocce dello stesso mare che ci piaccia o no però è così è la nostra parte immortale è il nostro collegamento antico all'universo e conoscere ciao Antonella ciao Claudia ciao Michaela ciao Valentina belle e riconoscere anzi imparare a conoscere e a riconoscere anima dentro di sé è una cosa meravigliosa perché ti fa vivere poi la vita a un altro livello in un altro in un altro modo mentre invece quindi quindi per concludere l'anima ti collega a Dio è Dio ok l'ego invece è funzionale alla terza dimensione cioè noi viviamo in questa terza dimensione e dobbiamo in un qualche modo cioè io sono Giulia sono di Roma ecco cioè è un'identità che noi abbiamo è un'illusione è un'immagine mentale che ci stacca dall'uno universale quindi quindi in fondo è uno strumento di anima non è staccato dall'anima ma è uno strumento di anima per fare esperienza nella terza dimensione ok è l'immagine che abbiamo di noi stessi è l'illusione di chi siamo davvero perché in realtà in realtà voglio dire chi siamo davvero è anima decisamente anima è armonia è fratellanza è unione è vibrazione alta è connessione interna la connessione interna e con l'alto no? che finalmente ritroviamo che finalmente ritroviamo dopo dopo aver attraversato l'inferno e l'ego invece tutto ciò che ci divide che ci fa sentire diviso che ci fa che ci fa sentire individuo e individualità e che ci appunto divide dall'uno ok infatti ego si muove con la paura l'ego è la parte di noi che ha paura dei cambiamenti per esempio invece anima vuole cambiare in continuazione sa che nulla è fermo ed è per sempre allo stesso modo no? ego ci mette in ansia mentre invece anima non ha paura di niente ego è la paura del giudizio quindi è quel senso anche a volte di vergogna o di senso di colpa è la negazione della vita l'ego ha bisogno sempre di conferme per esempio mentre invece anima se ne frega perché sa perfettamente chi è sa perfettamente che è parte del divino e che gli frega di averci la conferma o la vergogna o il senso di colpa zero proprio ecco siccome però noi stiamo a parlare della della relazione della relazione tossica e stiamo parlando eh amore mio Daniela quali sono le altre dimensioni e poi magari un giorno ne parleremo adesso siccome a me piace parlare di pratica ma non perché per carità meraviglioso uh io mi perderei no a parlare di questa di queste cose meraviglie che cacchio vuol dire nella realtà ecco pragmaticità ecco che vuol dire famo degli esempi cioè famo faccio adesso degli esempi pratici di come effettivamente nella relazione tossica la preda si muove per ego ok ecco allora allora se abbiamo capito che l'ego è il falso sentiero e anima è il sentiero giusto sentite queste parole no falso falso e giusto cominciamo a capire che in una relazione per esempio noi quando stavamo nella relazione tossina quando stavamo con il narcisista seppur questo chiaramente non vale in tutte le situazioni ma sono sicura che molti di voi si ritroveranno quando stai con una persona per facciata perché ammettiamolo che spesso e volentieri siamo rimasti 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 nella relazione anche noi per facciata scusate posso dire le parole è un testa di cazzo è uno stronzo mi ha messo le mani addosso adesso vado per esempio mi ha messo le mani addosso mi ha tradito mi ha isolato mi ha trattato male però è un bravo medico oppure è un bravo artista oppure però è ricco quindi comunque sai non c'ho da pensare bollette non c'ho da pensare a stirare perché c'è stata governante non devo pensare dai no cioè nel senso che spesso e volentieri spesso e volentieri ci allontaniamo pure noi ci siamo allontanati dall'amore vero perché comunque la sovrastruttura ci ha agganciato del narcisista o della narcisista è un po' stare più che per facciata anche per grazie scheggia piccola vedi fatemi sapere se vi ci ritrovate ok quindi vabbè alla fine si parlo come magno brava Sara esatto esatto se no ci capimo una mazza avevamo detto tanti concetti meravigliosi e fantastici e poi che abbiamo detto niente ecco quindi ci sono stata perché sì erano stronzo però era un bravo medico però era un bravo musicista però era ricco però ecco queste cose qui ok quindi quando invece stai con una persona per amore ok non è che non è che se uno è un bravo medico ciao Caterina o se una persona è ricca non deve più stare insieme no però se se la persona è ricca e è un bravissimo medico un bravissimo professionista però te tratta male è chiaro che anima soffre no anima ti dice no se tu proprio devi staccare una persona devi stare meglio di come stai da sola o da solo perché l'amore secondo anima si basa su la scelta della persona che hai accanto se è una brava persona se è onesta quindi non se se la sua facciata e poi dopo dentro fa schifo e noi vabbè no dobbiamo fare delle scelte che vadano verso l'essenza dell'amore vero perché altrimenti noi stiamo stiamo con un involucro vuoto che però sbrilluccica da fuori e dentro è quello è l'ego lo sbrilluccichio esterno è dentro è l'essenza è l'anima infatti tante volte no l'anima e l'essenza sono usate come sinonimi andiamo avanti un altro esempio quando entriamo in sfida con un antagonista e anche qui di nuovo entra entra in scena l'ego il nostro ego perché lì è attaccamento non è amore no quando quando il narcisista ti lascia si va a fare il giro con l'amante e poi ritorna con la finta epifania ah ho capito oh la narcisista eh come il solito ripeto ciao Giacomo ah ho sbagliato ho capito tutto ho capito tutto sei la donna o l'uomo della mia vita ho capito ho sbagliato il nostro ego far giro del raccordo anulare regà cioè noi con le trombette proprio pepe 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 ho vinto piatevela tutti in saccoccia ho vinto ho vinto ma hai vinto che? la fiera dei matti che hai vinto capito? però siamo onesti fino in fondo succede pure questo ditemi se non è vero quando ci mettiamo in sfida con un altro perché sempre perché non dobbiamo essere sostitutivi sostitutivi non si dice sostituiti esatto Giacomo ho vinto una psicopatica sai che vittoria no? ecco quando invece quando invece anima ma che ti dice allora? anima ti dice no bella de casa qui siamo tutti utili nessuno è indispensabile ma se tu devi essere amata devi essere amata per bene con rispetto fino a che fino a che fino a che poi non finisce fino a che brava Anna la relazione con un narcisista in fondo ti insegna a sentire la nostra anima e mo infatti ci arriviamo anima non è contenta quando tu quando tu riaccogli diciamo il narcisista che è tornato dopo averse fatto il giro della giostra con l'amante e ti ha fatto la finta epifania e quindi di nuovo quello bombing e tu pensi che finalmente hai vinto questa sfida perché lui non può essere felice con un'altra o con un altro lì ti sei ti sei allontanato ti sei allontanato da anima ti sei allontanato da te stesso dal rispetto dalla dignità di te stesso anche tu dici vabbè però vedi qua c'è di mezzo la manipolazione e mo ci arriviamo ci arriviamo pure là e questo è la paura è la paura la paura di essere sostituito aria dice fino a che la manipolazione non ti desintegra anche il falso ego e dici ma io chi sono bravissima quando accetti che siamo tutti uguali cioè tutti siamo tutti utili e nessuno è indispensabile ma che sei amata per ciò che sei fino a che la storia non finisce è tutta un'altra ti approcci in tutto un altro modo alla persona che hai accanto già il fatto di avere questa paura di camminare sulle uova di essere passibile di sostituzione già è un sentore che è l'ego che è agganciato e che non è anima che è agganciata alla relazione un altro esempio un altro esempio a mio avviso fondamentale dell'ego nella nostra relazione è quando noi ci impuntiamo di voler cambiare il narcisista o la narcisista cioè addirittura noi pensiamo di poterlo fare di avere cioè che è un insulto è proprio un insulto al libero arbitrio che ci ha dato appunto l'universo l'universo se una persona non vuole cambiare e tra l'altro te lo dimostra in tutti i modi come puoi ostinarti come puoi pensare lì uno c'ha l'ego gigante in quel momento giusto e dice ok allora io ho le carte ho le carte possibili per cambiare una persona azzo lì ti sei strallontanato da anima perché anima ti dice ti direbbe no vuoi stare con questa persona l'accetti così com'è se non ti sta bene puoi provare a comunicarglielo perché c'è il libro arbitrio quindi io ti comunico un qualcosa che non va se l'altra persona percepisce e fa qualcosa per venirti incontro bene altrimenti tu non ti puoi ostinare a cambiare ok perché da una parte ego è attaccamento e invece anima è distacco è distacco è quel sano distacco quando lo vuoi cambiare che cosa succede poi poi vi leggo e ragazzi scusate sono 25 minuti che parlo da solo cioè che parlo senza leggervi ma ora vi leggo tanto io beh non male insomma ho concluso la prima parte senz'altro quando lo vuoi cambiare quando lo vuoi cambiare qual è l'infrazione che compi nei confronti di anima no tu tu stai dimostrando all'universo quindi all'anima ok stai dimostrando alla tua anima che esattamente come per quella storia è ricco è un bravo medico un musicista però no esattamente allo stesso modo tu non stai più vedendo cioè non stai più vivendo la relazione perché ami quella persona ami davvero quella persona ma vorresti ma perché tra l'altro è impossibile amare la persona che prima si vende in un modo no e poi che perché ti promette il paradiso e poi ti consegna l'inferno è chiaro però lì l'anima ti chiede di essere coerente no che succede che tu vedi l'immagine che vorresti del narcisista perché è quella che ti ha venduto nella fase del love bombing ok sei innamorata dell'obiettivo di farlo ritornare così anche Claudia perché non ammetti a te stesso di aver sbagliato anche questo è assolutamente corretto però lo vedete che cioè si è si è innamorati di un falso obiettivo si è ostinati in un falso obiettivo l'amore dove sta regà non c'è è importante è importante capirle queste cose perché così uno si libera si libera del criceto che gira nella testa no nella ruota come come spesso dico nelle mie dirette grazie che lì appunto come vi avevo annunciato grazie che qui c'è anche la manipolazione no di mezzo è chiaro però se diventa più importante ostinarti a volere per forza quello che avevi idealizzato senza accorgerti senza accorgerti che i fatti dicono altro quindi anima inizia a gridare inizia proprio a gridare a gridare a gridare perché perché anima dice tu tu non stai accettando la realtà tu non stai ti stai allontanando dalla tua essenza ti stai allontanando e stai vivendo stai vivendo con questi famosi occhiali rosa lontano che dici Tania alla manipolazione cediamo perché siamo mossi da ego se fossimo dell'anima ce ne accorgeremmo brava infatti l'anima non c'entra una mazza con la relazione tossica infatti quando poi uno ha una relazione sto sudando scusate raga è che fa caldo e io ho i capelli che mi fanno da coperta oh ecco che bello così va meglio vediamo che cazza devo scritto oggi va allora sì non c'è accettazione esatto che sia nel bene o nel male perché anima ti dice la verità la verità la devi vedere e la devi accettare sia nel bene che nel male è certo è chiaro che se c'è un ciao silvia se c'è una 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 situazione di negatività di dolore eccetera fa male aprire gli occhi e vedere no però è necessario è necessario perché anima sta vuole stare nella verità nella realtà nella realtà delle cose tu non la puoi ingannare perché quella comincia a sbraitare a scalpitare e meno male perché sarà la tua salvezza e quindi adesso mi fermo se no e vi voglio leggere se no quindi vado vado su 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 allora vado su 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 a un certo punto mi devo fermare allora dai inizio da Caterina l'anima va alimentata come una piantina se non ce ne prendiamo cura lei si allontana dal corpo per questo forse ci sentiamo come morire in realtà l'anima si sta mettendo in salvo allora per me questa è una visione diciamo romantica non è che si non è che si allontana dal corpo sta là sta sempre là siamo noi che ci allontaniamo da lei capito è cioè è un po' il contrario forse ci sentiamo morire perché non ci sentiamo morire perché perché lei vorrebbe che noi ascoltassimo e invece la ignoriamo vediamo un po' che diceva Stellina voglio andare a salutare Stellina Fabiana che dice non lo raccoglie l'anima ma eco perché vuole aspetta no stella Stellina il puttantur si va a fare va bene va bene va bene allora scheggia piccola ego ci fa essere quasi presuntuosi ma pure senza quasi guarda ci fa essere presuntuosi hai detto benissimo nada il dolore profondo l'angoscia la voglia di morire dopo essere state scartate in maniera crudele ci fa essere consapevoli della cattiveria dell'essere umano ben lontano dalla nostra empatia giustissimo e anima ha bisogno di purtroppo cioè ha bisogno sì noi abbiamo bisogno di sperimentare questo per tornare ad anima capito perché comunque bisogna anche il male quando lo incontri devi poi devi poi comprendere che esiste e allontanarti dal male e se no mariella lo so che marrakesha ha fatto la canzone ha fatto la canzone anima ah no io pensavo che parlavamo di crudelia io spero tanto di poterlo di poterlo intervistare speriamo dai Anna dopo 23 anni la mia anima si è ribellata quanto l'ho fatta soffrire ora la sto acculando meraviglioso Irene il problema è che fin dall'inizio io pensavo che fosse stata la mia anima a farci incontrare e che le nostre anime si fossero riconosciute Irene non ha nemmeno sbagliato questo perché può essere che le anime si sono riconosciute allora che cosa che cos'è noi sappiamo insomma che noi veniamo qui come anime noi veniamo nella terza dimensione che è questa qui della terra per fare esperienza ok tutto ciò che noi di cui noi vogliamo fare esperienza ci porta ad avere delle lezioni per poi tornare ad anima con queste lezioni e anima cresce e si evolve prima di scendere almeno così dicono tutti i testi importanti tra sia sacri che non studi importanti dimostrano cioè dimostrano poi ecco si sa che questa roba lo scopriremo solo morendo però insomma voglio dire ormai si sa che tutto ciò che noi veniamo ad esperienziare si può dire tutto ciò di cui facciamo poi esperienza qui nella terza dimensione l'abbiamo deciso e abbiamo deciso anche di incontrare il narcisista questo proprio guarda sicuro sicuro appalla infatti poi se uno poi comincia a fare tutto il puzzle no di cui di cui parlo sempre a vedere tutti i pezzi del puzzle capisci come effettivamente anche il narcisista o la narcisista si va ad inserire perfettamente in quel in quello spazio temporale per darti forse una delle lezioni più grandi veramente sono da benedire sotto questo profilo allora Irene dice mi sono ostinata per tanto tempo a cercare di comunicare con l'anima del narcisista la cosa più dura è stato che era impossibile certo perché noi dovevamo imparare prima a comunicare con la nostra capito Claudia dice già l'avevo letta Claudia Silvia allora no Silvia va bene Silvia rispondeva allora Chiara finché non realizziamo che è un'illusione non possiamo tornare a vivere assolutamente Caterina dice è come se l'universo ci mettesse alla prova chiedendoci ami la verità o ami una bugia preconfezionata bravissima bravissima sì stiamo proprio facendo esperienza di quello come facciamo a riconoscere la bugia preconfezionata e la verità è facile perché parla parlano parlano le cose cioè ciò che viviamo ci parla e allora o noi vogliamo sta così bla 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 non ti ascolto capito quello è allontanarsi da anima invece imparare a vedere le cose per quelle che sono e accettarle e anche anche poi a non giudicarle a trovare una pace dentro di noi che è così sia vabbè andata così quello è tutto anima Antonella Giulia sei davvero andata a toccare dei tasti molto profondi delle motivazioni che ci portano a restare comunque in quella storia malata sono ora a distanza di altri trennarci e di 30 anni quasi eh meno male che so passati 30 anni è una bella distanza grazie Stefano la persona che hai conosciuto all'inizio non esiste è questa la chiave assolutamente è vero assolutamente è vero e più noi lo comprendiamo davvero nel profondo comprendiamo questa cosa più è facile facile vabbè è una parola grossa è facile per anima ok quindi per ego non è facile un Kaiser per anima è più facile poi tornare in equilibrio più che in equilibrio insomma ad accettare no Daniela l'avevo letta allora esatto brava Claudia l'anima te lo dice in tutti i modi urla Ginevra ma se ego esiste in noi se è comunque una parte strutturale di noi come possiamo gestirlo dobbiamo zittirlo o guarirlo no vabbè perché secondo me non non va a mio avviso non va zittito e non va guarito perché come posso spiegare vediamo siccome è una parte cioè siccome è uno strumento nelle mani di anima una volta che anima prende il controllo che poi vabbè prende il controllo ci servono anni e anni di studio di 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 cioè deve essere una missione che uno ha nella vita capito ecco forse forse potremmo forse pensare che si possano allineare cioè che ego possa finalmente ascoltare di più anima perché ego comunque esiste cioè non è che lo puoi zittire perché questo succede forse quando muori guarire perché no nel caso in cui comunque si allinea e ascolta la matrice quindi anima la vita assume un altro un altro colore lisa sei legato non a questa persona ma all'idea che ti sei fatta di questa persona assolutamente area di cambiamenti Anna io sono andata a convivere lontana da casa con lo psicopatico per non smontare la casa tornare indietro dimostrando ad amici e parenti di aver sbagliato ho tollerato l'impossibile lo vedi perché comunque per noi ego avrebbe sofferto la nostra l'immagine quindi brava vedi Anna hai tirato fuori una cosa importante non soltanto l'immagine no accompagnata al narcisista bravo musicista bravo medico bravo quello che ti pare ricco abbiente eccetera eccetera ma anche la nostra immagine agli occhi degli altri che sai che ce ne deve fregare meno di zero nada lasciamoli nel fango della loro vita che va bene sì assolutamente ciao silvia stellina come si fa ad accettare a rassegnarsi di vederlo con un'altra primaria che va a prendere il tuo posto lo io so che è ego questo ma come si fa eh lì come si fa devi avere compassione per quest'altra nuova vittima perché non sa che cosa l'aspetta perché è manipolata perché crede di aver vinto il trofeo il trono il trono dell'illusione perché quando tu ti accorgi effettivamente a chi hai dato tempo ed energie e vedi come ti ha manipolato usato sfruttato e trattato male come fai a essere gelosa di chi sta passando la stessa tortura o che comunque a breve passerà la stessa tortura che hai che hai passato tu lì bisogna tirare fuori la testa quindi la razionalità cercando di più sei lucido e più questa cosa la vedi e la comprendi è chiaro che se stai nei primi tempi e quindi c'è tutta la crisi di astinenza la dipendenza biochimica è molto difficile essere lucidi e riuscire a capire che effettivamente è una benedizione la liberazione non è di certo l'essere geloso della nuova futura vittima poverina Silvia brava siamo noi che ci allontaniamo dalla nostra anima e questo ci porta a soffrire esatto bravo vero falso seguiamo l'ego mentre l'anima ci insegue esattamente corretto Antonella uno dei miei narci commercialista in vista con la sua immagine verso metà della relazione era l'appiglio che mi faceva rimonere in realtà l'amore non c'era più da tempo lo vedi ecco Aria ci sentiamo morire perché stiamo distruggendo ego e non sappiamo ancora che siamo anima smontando la nostra falsa identità ci sentiamo morti è lì che scopriamo la nostra parte spirituale Veronica ciao Veronica Allora ciao Maura scendo giù eh sì vero falso certe cose le scopriamo solo vivendo altre le scopriamo solo morendo tipo che c'è stato dopo la morte è lì lo scopriremo solo morendo mi sembra giusto no Maristella ciao Giulia mi è voluta dopo tanti calci nel sedere la mia anima si è ribellata avevo un combattimento spirituale non da poco certo perché l'incontro tra una persona che si muove per amore e una persona che si muove con assenza di amore è proprio la lotta tra il bene e il male che tra l'altro viviamo tutti i giorni purtroppo mai come in questo momento storico esatto Stefania è da benedire l'incontro con il narcisista io per certi versi lo ringrazio mi ha fatto vedere le mie ombre e fare terapia profonda che è la salvezza Claudia dice io sapevo che era così pensavo anch'io come Nimue carina Nimue di studiarlo ma il viaggio all'inferno l'ho pagato caro il male è molto più forte mi ha portato a capire molte cose di me e lo so certo purtroppo è così insomma da queste relazioni non è che si esce vincitori sotto quel profilo si vince molto altro un'esperienza per la vita Cynthia per la mia esperienza l'ego vive nell'illusione che il nostro valore dipenda dalla capacità di salvarlo l'anima sa che dobbiamo salvare noi stesse e che per noi e che noi per prime dobbiamo imparare ad amarci assolutamente corretto Claudia Claudia la nostra dice si queste storie ti insegnano a ritornare in contatto con l'anima anzi a diventare un tutt'uno con la tua anima ci rifai amicizia si Nada dice io credo che nulla è per caso nella vita e dopo il dolore dello scarto io mi guardo indietro con un sorriso lui non sa nemmeno il regalo che mi ha fatto ho ritrovato la bambina che è me e mi amo bellissimo Anna dice ma se ti allontani da anima ti vengono un sacco di sintomi fisici brava Anna brava brava si rischia di morire veramente 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 raga ecco perché anima urla urla incazzatissima vabbè incazzata nel modo suo perché ti dice ma cazzarola ma vuoi ritornare ma vuoi ritornare alla fonte di amore perché ti sei allontanata dalla fonte di amore se ti allontani dalla fonte di amore universale ti ammali ti ammali cazzarola brava Anna hai tirato fuori una cosa molto importante molto importante porca paletta aspetta fammi un po' vedere che avevo scritto qua perché io poi mi scordo quello che scrivo capito allora vi voglio dire pure queste altre due cose aspetta ciao Deborah va bene allora Alessandra dice Giulia però si parla sempre di dualismo la consapevolezza di anima ego bene male eccetera eccetera io sto iniziando a credere che la verità sia l'equilibrio tra questi e farlo proprio certo perché in realtà non esiste la distinzione noi siamo siamo tutto questo siamo sia bene siamo sia male il dualismo è divisione e fa parte della terza dimensione è chiaro che invece anima no però ci sono ci sono l'amore l'amore universale cioè ci sono due poli non so come spiegare come spiegare queste cose che per me sono chiarissime dentro perché sembra facile però ci sono due poli e anima non può permettere che tu ti avvicini al polo opposto perché esiste l'amore esiste è forse come una sorta di scala di gradazione non ti puoi allontanare troppo dalla fonte dell'amore universale perché quello è come si dice porca paletta non mi viene il termine tipo tipo alto tradimento capito come si può dire è proprio una bestemmia è l'assenza di amore capito allora non stiamo parlando non stiamo parlando dell'opposto dell'amore ecco questa è la sfumatura non stiamo parlando dell'amore e dell'opposto dell'amore che che ne so cacca lo chiamiamo cacca non stiamo parlando di amore e cacca stiamo parlando dell'amore e dell'assenza dell'amore non puoi andare verso l'assenza dell'amore perché anima non te lo può permette allora poi dopo se tu sei proprio stronzo scusatemi il termine ti allontani all'assenza dell'amore e allora poi dopo paghi le conseguenze t'ammali diventi narcisista cioè diventi passi proprio no come un po' dall'altra dall'altro polo questo ci sta di polo capito la roba del polo è importante esiste poi io non è che cioè non è che riesco a dare diciamo magari la la giusta a usare le giuste parole ma chi se ne frega quello è insomma per capirci no l'anima è l'intenzione senza paura l'anima è di ecco le buone intenzioni la buona fede ecco perché noi siamo con il narcisista due poli opposti perché noi non ve leggo più ma voi vi leggete cioè mi leggete voi a me blasfemia brava Antonella sì ok la buona intenzione ok l'intenzione avere avere buona fede e dall'altra parte invece muoversi con brava Aurelia l'inganno con l'intenzione di fare del male di fare soffrire e ragazzi qui stiamo a parlare di due energie diverse capito una appartiene a anima e l'altra appartiene a ego ma ma a ego all'ennesima potenza ego è è ti porta più vicino a satana che a dio famosa capì metaforicamente capito ecco l'ego perché la paura ecco perché la paura non la non è come è come una fame atavica che non la sazi mai capito quindi poi alla fine che succede che sei pieno dei dubbi se sei pieno di dubbi di false credenze di condizionamenti ti allontani da anima perché se tu sei vissuto sei vissuto se dice hai vissuto per tutta la vita con una madre o un padre che ti dice spasate l'uomo che c'ha una posizione economica alta perché così almeno c'è il culo parato per tutta la vita per carità ma cazzo scuddio vuoi il culo parato per tutta la vita lavorerai tu capito che ti voglio dire quindi questo condizionamento perché mia nonna mi diceva che io mi dovevo trovare l'uomo abbiente poi alla fine ti trovi un coglione che però è abbiente e siccome c'hai il condizionamento la falsa credenza che t'hanno affibbiato da quando eri ragazzina fai sta cazzata di rimanere in una relazione con assenza di amore e quindi lontano da anima ma con l'uomo che c'ha la posizione e bla 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 capito capito come come fanno questi due poli come ti e no come superiamo dai che siamo arrivati quasi alla fine come superiamo la paura di non esistere rispondete voi va rispondete voi che io mi sto scaldando no scherzo dai come superiamo vi rifaccio la domanda la paura di non esistere eh Caterina quanto mi piacerebbe poter affrontare questo discorso che non tutti hanno l'anima eh ma un giorno lo faremo eh un giorno lo faremo grazie grazie Chiara 92 minuti di applausi respirando Tania va benissimo respirare è sempre meraviglioso mandandoli affanculo pure stellina Silvia dice non lo so esistendo brava Claudia questa mi piace dando noi stesse amore a noi stesse brava Anna brava Anna che c'è qua Claudia dice ma una prepsicanalisi a sti futuri genitori brava infatti non è male come idea allora sì volendosi bene brava scheggia piccola ascoltando anima con coraggio grazie oh lo sapete che dobbiamo fa ci dobbiamo dare il permesso di esistere siccome noi abbiamo la falsa credenza che non c'è stato dato il permesso di esistere perché probabilmente mamma o papà ci hanno fatto qualche battuta del cazzo del tipo non dovevi nascere perché sei nata perché ci si è rotto il preservativo esempio no uno su un milione e quindi tu dici porca paletta sono un errore sono nata che non dovevo nascere tutte queste stronzate qua tanto non si muove voglia che Dio non voglia e quindi se dovevi nasce nascevi e se non dovevi nasce non nascevi tutto il resto so cazzate parliamoci chiaramente diamoci il permesso di esistere e se ci siamo se ci siamo evidentemente ci dovevamo sta punto primo senza che ci stiamo lì ad arroverla il cervello amiamoci accettiamoci e conosciamoci che dici te pare facile no non è facile per niente il primo passo a mio avviso è conoscersi io lo dico sempre la cosa migliore da fare è conoscersi attraverso la terapia la terapia psicologica farsi tante domande farsi dare gli strumenti dallo psicologo alla psicologa per potersi rispondere che ci sto a fare che voglio che ci sto a fare magari uno ci arriva dopo però chi sono che cosa voglio non so ancora cosa voglio forse posso sapere cosa non voglio e l'esperienza della relazione tossica ci insegna tantissimo cosa non vogliamo ok accettiamoci quindi una volta che ci siamo conosciuti dici vabbè però lo sai che c'è la fine della fiera tanto male non sono pensavo peggio di solito poi succede questo perché comunque se trovi il terapeuta giusto ti fa capire che siamo tutti utili nessuno è indispensabile ma soprattutto siamo tutti unici questa è la grandissima è la grandissima verità quindi abbiamo tutti ragion d'essere ognuno a modo suo tanto semplice ecco pensa pensa no è così semplice noi ci ruiniamo la vita pensando di non essere degni ma rispetto a cosa va bene e poi c'è tutta la fase di amarci quello capisco che è è come no dici scalare l'everest a volte a volte c'è gente che scalare l'everest e non si ama per far capire il paradosso cioè ognuno di noi è un universo e ognuno di noi è una goccia nell'oceano una goccia dell'oceano allora Silvia dice io ho paura di stare sola però quando tu conosci te stesso e accetti te stesso e ami te stesso capisci che non c'è proprio bisogno di nessuno perché se ci sei tu con te stesso e qui questa è un'altra lezione che anima scalpita anima finché non impariamo sta lezione ci dà il tormento perché poi anima è una decoccio è decoccio vuole che certe cose le capiamo e c'ha ragione per carità di Dio c'ha ragione ma se tu fai di tutto poi per stare con te stessa bene per capisci che non c'è proprio bisogno di nessuno perché tutto ciò che ti manca te lo puoi dare da solo certo ti devi impegnare perché perché devi capire che cos'è che ti manca e dopo che hai capito che cos'è che ti manca devi dare la possibilità a te stesso di dartelo quindi voglio dire è un colloquio è un dialogo interiore cazzarola se è importante il dialogo interiore è la connessione interna di cui vi parlavo all'inizio della sì della relazione senti io all'inizio della diretta che dicevo appunto vi ho nominato la connessione interna io parlo sempre di questa connessione interna e la connessione interna è l'integrazione delle nostre parti che devono parlare tra di loro e poi devono parlare pure col capo condominio e mi piace pensare porca paletta se mi piace pensare che il capo condominio è proprio anima perché lei lo può fa il capo condominio certo che se come in un palazzo ci metti un coglione al posto del del capo condominio ovvero ego fai un casino ti allontani da anima ok e anima continua a sgridarci a dirci che siamo degli stronzi ci fa ammalà eccetera 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 che ve ne sembra ragazzi che cosa che cosa ve ne è sembrato di questa di questo spaccato sabrina siamo angeli va bene mi piace mi piace è difficilissimo lo so scheggia piccola è difficile però uno lo deve fa lo deve fa cioè alla fine ma se uno se uno sta da cioè quando stai da sola che fai ti manca l'ossigeno no ti crolla il tetto della testa sulla testa no c'è tutto quello che ti serve pure da solo allora ma che te frega cioè nel senso quando poi tu finalmente respiri e dici tu sai che c'è ma sto proprio bene da sola con me allora ti arrivano ti arrivano poi cioè ti arrivano poi persone che vogliono stare con te perché e puoi costruire qualcosa di sano perché se tu speri che tutto quello che ti serve te lo dia un altro anziché dartelo da solo è finita è finita lì anima si incazza e dice vabbè allora questa non ha capito niente allora fare piacere con noi bene che ti piace Claudia che facciamo stasera di bello è vero Claudia lo fa davvero si parla proprio da sola bisogna fare così è assolutamente giusto cioè tu ti rendi conto che puoi fare come le pare allora l'integrazione delle parti allora basta un po' di zucchero assolutamente io ho fatto pure un video uno ma pure più di uno in realtà sono un po' vecchi quindi devi scorrere ne oddio come si chiama porca paletta con i aspetta mo te lo dico con i con i titoli dei video miei vecchi proprio non mi ricordo una mazza comunque aspetta tipo vediamo connessione dialoghi interiori allora come ritrovare la connessione con se stessi dopo la relazione tossica l'ho fatto un anno fa quindi come ritrovare la connessione con se stessi dopo la relazione tossica e poi mi pare che ne avevo fatto pure un altro ma poi insomma poi te li trovi metti connessione interna dialoghi interiori quando cercate un mio video sul canale scrivete la parola chiave più dialoghi interiori così vi viene cioè vi viene fuori capito puoi dire comunque due parole sul significato certo noi abbiamo tutte parti dentro di noi questo io sarò per sempre grata Silvia la mia psicologa che all'epoca insomma mi ha aiutato non poco a fare questo lavoro di comunicazione tra le parti allora abbiamo la nostra parte bambina la nostra parte adolescente la nostra parte ferita di 17 anni perché ha subito un determinato abuso la nostra parte che ne so leggiata e spensierata di 19 anni sono di tutte no sto facendo esempi e ogni tanto una di queste se se tu la ignori che magari ti vuole dire qualcosa e tu la ignori perché non hai capito che magari ti sta dicendo qualcosa tu senti un conflitto dentro di te e cerchi di tirare fuori quella parte poi in realtà io ripeto ho fatto la terapia della gestalt che si basa proprio sull'impersonificare le due parti che parlano quindi tu fisicamente impersonifichi prima una parte e poi l'altra e le fai dialogare è meraviglioso veramente mi si è aperto un mondo quando facevo proprio questo esercizio mi accorgevo di come effettivamente mettendo mettendo me quindi la Giulia di oggi in comunicazione con la Giulia 17enne ferita per un determinato abuso potevo effettivamente far parlare le due parti e dire per esempio dire a questa ragazza a questa mia parte di 17 anni ferita guarda Giulia adesso ci sono io che so grande insomma c'ho un pezzo da 35 te posso pure ti posso pure aiutare ti posso ci sono io che ti proteggo adesso nessuno ti può più fare del male quindi tante volte adesso per fare un esempio uno spaccato quindi quando tu comprendi qual è la parte che ti vuole dire qualcosa certo è chiaro che lo devi fare con lo psicologo è più facile no perché fare tutto sto lavoro da soli e che cazzarola è difficile quando quando parli con una parte e poi con un'altra e poi con un'altra e comprendi che effettivamente puoi trovare un compromesso tra le due parti poi a un certo punto ti viene automatico non lo devi manco fare più quello è quando hai ritrovato la connessione interna Stefano non mi sembra vero sentire una donna parlare di anima di amore di false condizioni legata all'opportunismo e alla convivenza sei vera? so tutta vera guarda capelli veri unghie vere labbra vere naso vero sì ma certo ma certo e troppe cose belle dobbiamo ancora di troppe cose belle dobbiamo ancora parlare certo vabbè ragazzi allora spengiamo le candele e andiamocene a dormire Carmela dice Giulia io è un mese che non lo sento spero con tutto il cuore che non si fa più sentire allora Carmela spegniamo le candele così facciamo una bella preghiera che tutti i nostri narci non tornano non tornino che tante cose belle possano entrare nella nostra vita ragazzi grazie fuoco che ci permetti queste preghiere e dagli tutta solo cose belle poi che tutta la sofferenza che abbiamo oddio tutta la sofferenza che abbiamo provato che stiamo provando in vari livelli in questi giorni per questa settimana che possa sparire con il soffio della candela via e poi Carmela questa è per te ultima ma non per importanza la candela scaccia narcisisti che possano tutti i narcisisti andare via dalla nostra vita e che la Madonna la accompagni ringrazio immensamente tutte le persone che hanno partecipato alla diretta che hanno fatto un paypal insomma una donazione a Dialoghi Interiori grazie grazie di cuore e se avete bisogno di me scrivetemi mi trovate su tutti i social mi trovate sulla mail dialoghi.interiori chioccio al gmail.com grazie Fabiana Claudia e Anna Maria che con tanta dedizione mi aiutate nel gruppo Facebook con i nomi no sì Liberi dal Narcisista trattino Dialoghi Interiori e poi l'altro gruppo che abbiamo con Anna Maria e Gabriele è Dialoghi Interiori il lato esoterico e spirituale del narcisismo mi sono ricordata tutto so sudà ciao buonanotte e grande sorpresa molto probabilmente intervisterò un ragazzo domenica sera su Instagram buonanotte a voi grazie dagli e tutta dagli e dagli e tutta ciao buonanotte